Allora ci siamo domani dalle 14 per tutti i collaboratori sportivi sulla piattaforma www.sportesalute.eu trovate un numero di telefono al quale mandare un sms con il codice fiscale e riceverete una risposta che vi indicherà il giorno della fascia oraria durante la quale poter accedere alla piattaforma per richiedere il bonus di 600 euro per il mese di marzo. È un sistema fatto per cercare di velocizzare e non intasare tutti quanti insieme alla piattaforma. So benissimo che 50 milioni previsti per il mese di marzo non saranno sufficienti e vi posso assicurare che sto lavorando giorno e notte per recuperare le risorse per marzo e per aprile. Del resto non è il momento di fare polemiche però non c'erano assolutamente dati su tutto il mondo dei collaboratori sportivi e quando finirà questa emergenza dovremo subito mettere mano a tutto ciò. Stiamo lavorando anche a tutte le altre richieste del mondo dello sport ma da domani alle 14 www.sportesalute.eu